posizione solo di te si è alzato due volte ho fatto giù in posizione di difesa piegata sulle gambe basta e spaccato quindi faccio perdere questi 7 kg andiamo inizio spaccato 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 Grazie a tutti Oh, gli da passare Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti